Non pensarci troppo Quante volte ci siamo sentiti dare questo consiglio? Noi stessi cerchiamo di non pensare troppo a qualche problema, a qualche cosa di spiacevole, di indesiderato, inutilmente. Anzi, più cerchiamo di non pensarci e più quel pensiero ci torna alla mente. Prova a te, alla fine di questo video, a non pensare per mezz'ora a un osso bianco. Ogni volta che viene in mente un osso bianco, cercate di scacciare questo pensiero. Impresamente, questo animale di cui appena sapevate l'esistenza si impone al centro di ogni pensiero. Come fare per liberarsi da questi pensieri che si intromettono nella nostra vita? Beh, si può cercare di pensare ad altro, magari una bella vacanza. Non sempre funziona. Si rischia di arrivare a pensare a una bella vacanza in Alaska, popolata da orsi bianchi. Una strategia più efficace è quella di cullare proprio questo pensiero per depotenziarlo. Accolvere un pensiero indesiderato può essere un buon modo per sfuggire alla sua tirannia. Un buon modo è anche quello di scriverlo, così da allontanarlo, affidandolo ad un foglio bianco. Un buon modo è anche quello di scriverlo.